Migliaia di sportelli ATM su circuito Bancomat, in migliaia di tabaccherie convenzionate. E come buttare benzina sul fuoco su una malattia sociale difficile da estirpare, come la ludopatia. Ludicom, l'Unione Nazionale dei Consumatori, ha lanciato una raccolta firme e l'Hastag Vinco se smetto, per provare a veicolare un messaggio forte che una volta per tutte possa entrare nelle case degli italiani, aprendo gli occhi su quella che ormai è considerata una droga a tutti gli effetti. La seconda conferenza stampa sull'iniziativa dell'Udicom nazionale, la nostra associazione dei consumatori, che unitamente alla Unione dei Consumatori Nazionali stiamo portando avanti per una raccolta firme contro l'abolizione dell'apertura degli ATM, quindi dei Bancomat, all'interno delle tabaccherie. L'Udicom negli anni si sta battendo molto su questo tema, ovviamente la materia consumeristica, il disagio sociale, le famiglie indebitate, non si possono permettere questi problemi di ludopatia e di giochi di ogni tipo e di ogni livello. Quindi noi riteniamo che questa apertura sia un disagio, un grave pericolo a chi ha questo vizio e quindi possiamo incorrere in grandissimi e grandissimi problemi economici. Abbiamo chiesto attraverso una lettera inviata sia al Presidente della Repubblica, nonché ai Ministri, nonché a Monopolio, nonché all'amministratore delegato di Banca 5 e di Intesa San Paolo di bloccare questa iniziativa, perché è solo un'iniziativa per fare business, perché è vero che fino al 2019 non si pagheranno le commissioni sul prelievo, ma dal 1 gennaio 2020 si pagheranno 2 euro di commissione, quindi la logica è quella di fare business e non si può fare business sulla pelle dei consumatori e degli utenti. Quindi questa nostra iniziativa consisterà nell'andare in tutte le spiagge più importanti d'Italia e in tutte le città più importanti d'Italia a fare una petizione, già partita attraverso la prima conferenza stampa che abbiamo fatto a Salerno e proseguirà per tutto il mese di agosto e il mese di settembre.